sulle scale, quindi vado su Architecture Stairs una scala che c'è l'alzata massima di 17,5 e c'è la pedata di 30 cm prima di tutto preferisco misurare prendere una misura da qua per vedere quanto è larga questa scala da qui a qui, più o meno ovviamente quindi 1,13, quindi considero 1,10 probabilmente va bene quindi prima di tutto ritorno su Run e qui posso dire che la larghezza della scala deve essere nella barra di opzioni di 1,10 e lascio tutto come no, scusate, questo Location Line quindi qui come quello del muro per esempio se devo creare questa polilinea dove ci sta questa scala questa linea dove sarà rispetto alle linee che sto disegnando al centro, di lato destro, di lato sinistro vedete se adesso faccio così vedete mi lo crea al centro centro della scala invece se faccio left mi lo crea di lato, lato sinistro della scala o lato destro ok? è chiaro allora vedete adesso quello che mi sta disegnando adesso che è interattivo come mi sposto il mouse mi aumenta o mi abbasta la quantità dei gradini questi sono gradini che hanno l'alzata massima di 17,50 però vedete questo rettangolo che arriva fino qua questo rettangolo della lunghezza massima della lunghezza, scusate, minima di questa scala per far arrivare questa scala dal piano terra al primo piano ok? quindi lui ha già fatto il calcolo dal piano terra al primo piano come impostato per default perché io sto lavorando sul piano terra quindi lui considera che questa scala parte del piano terra arriva al primo piano ovviamente se io voglio fare altro posso prima di cominciare a creare questa scala posso dire no, deve arrivare direttamente alla copertura o deve arrivare a un altro piano ok? quindi alla fine lui mi crea questo rettangolo così mi posso rendere conto della lunghezza che mi serve e sotto come vedete ci scrive quante alzate sono create adesso, fino adesso quanto mancano vedete mi sposto e sotto mi dice mancano quindi qui mi dice che sono 21 alzate quelli che mi servono per collegarli tutte e due con un'alzata massima di 17,50 ok? allora adesso provo a creare uno fino qua a 2,40 clicco qua adesso lui si ferma però non finisce la costruzione della scala se clicco qua io vedete che succede? comincia un'altra rampa creando un piano e rotolo tra queste due rampe ok? e poi lo posso anche continuare a fare da qui a qui ok? ho creato questa scala strana che sono tre rampe che seguono questa regola con il piano e rotolo di lato adesso vedete se vado su una vista 3D vedete ho fatto questa scala che arriva perfettamente al piano primo ok? con questo piano e rotolo vedete se adesso io seleziono questa scala vedete lui differenzia la selezione tra piano e rotolo e rampa quindi qui se clicco su questo ah no! qui faccio ok prima di tutto vedete che cosa mi fa adesso se faccio ok lui mi crea anche il ah no! la ringhiera si quindi possiamo trovare altri tipi di ringhiere ok? poi vediamo come personalizzare queste ringhiere faccio ok eh questi che mi... questi tre che c'ho ok? allora adesso se io voglio se voglio modificare questa scala vedete vado su Edit Stairs seleziono la scala Edit Stairs quindi modifica scala e qui posso selezionare o la rampa o il pianerottolo vedete come ho un po' sop 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 allora vado dalla vista piano terra vedete questo mi permette di allungare cambiare misure di questo oggetto qua e qui è questo vincolato alla scala quindi lo posso allungare da questo lato dall'altro lato qui mi sa e qui mi permette di un po' sop sop